Perché ho pensato di lavorare sulle Tre Sorelle? Perché le Tre Sorelle rappresenta, secondo me, uno dei massimi teatri mai scritti. Voi avete a disposizione il mondo, la vostra capacità di osservarlo, il mondo, di catturarlo. Gli attori sono dei ladri, sono dei ladri che devono cercare di non lasciare traccia del loro furto. Se io la interrompo, voi non dite niente. Cambio di tono, il cambio dell'intenzione, il cambio del pensiero, e io vi chiedo continuamente di mettere dentro. Per chi state recitando, avete delle macchine su di voi, parlare alla macchina e non parlare a lui ti aiuta. Che sete, berrei del te. Tu devi dire che sete, ma devi pensare che voglia di fuggire in Alaska con te. Che sete. Se rischiate il ridicolo, forse trovate qualche grammo di supplito. Oggi è il ter raw. No! No! Grazie a tutti.